Con il ricordo ancora vivido di quella notte di gloria a Rio de Janeiro, l'attenzione dei calciatori tedeschi, campioni del mondo, si volge già agli impegni dei club, con la Bundesliga pronta a ripartire. Per qualcuno però, il mese che è ormai passato da quell'1-0 all'Argentina, che è valso il quarto mondiale per la Germania, è stato troppo speciale per archiviarlo di già. Ci hanno coperto di attenzioni. Siamo stati la prima squadra europea a vincere un mondiale in Sud America, con una prestazione di squadra maiuscola. Io poi sono stato protagonista in tutte e sette le partite, dall'inizio alla fine. È stato un'estate indimenticabile. Benedikt Ovedes, capitano dello Schalke 04, in precedenza aveva sollevato soltanto la Coppa e la Supercoppa di Germania nel 2011 con il suo club. In nazionale, invece, era circondato dai compagni di Bayern e Borussia ad Usia a conquistare titoli in serie. Ma lui ci fa poco caso e dice che il successo non lo cambierà. Non è cambiato nulla per me, sono sempre lo stesso. L'unica differenza è che posso ritenermi campione del mondo. Il capitano dei Königsblau rimane con i piedi per terra, ma già si dice che potrebbe prendere il volo destinazione Arsenal per fare coppia con Mertesacker.